Movimento! E Miralemma è una finta per Ronaldo! La Juve in gol al minuto numero 51 e 16 secondi con Cristiano Ronaldo. La Juve in gol al minuto numero 51 e 16 secondi con Cristiano Ronaldo. La Juve in gol al minuto numero 51 e 16 secondi con Cristiano Ronaldo. E' un gol che vale una stagione. 2-0 Juve al minuto numero 66. La Juve in gol al minuto numero 51 e 16 secondi con Cristiano Ronaldo. La Juve in gol al minuto numero 51 e 16 secondi con Cristiano Ronaldo.